Allora, il prossimo artista che sta a testare sul palco, quando ho saputo che aveva aderito al quarto tributo di Davide Valentina, sono stato veramente contento, si può dire che la mia giovinezza l'ho passata ballando i suoi dischi, è un grande produttore discografico, ha fatto ballare tutta Italia, ma non solo tutta Italia, ma tutto il mondo, con le sue produzioni, sono veramente felice di averlo qua, il grandissimo Alberto Carpani in arte Albert One, grande applauso, eccolo qua, ciao Alberto, come stai? Buona sera, come stai? Maestro, 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 sei circondato da due musicisti, c'è gente che ha avuto mille cose, non è questa, non è questa, anche perché non abbiate paura, non canto canzoni mie, C'è la te che mi dice, canta, sing a song now now, sing a song now now, allora se la ricordo, sing a song now now, non la faccio tanto Fai turbo diesel? No, neanche quello, nemmeno quello, la responsabilità è loro, è loro, va bene, è loro, accompagnato da Roberta Fumarola e Luca, per voi, Albert One, un grande applauso! La responsabilità è come diceva loro, grazie di essere qua, supportatemi perché sono cose che abitualmente non faccio, di fatti si vede che faccio anche casino, Stavo dappertutto, ci siete? Volete? Sicuri? La responsabilità è come diceva loro, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti 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 voi che siete qua con noi questa sera Grazie a tutti 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 Grazie a tutti